L'Adoc Puglia è la protagonista di questa puntata dello sportello del cittadino. Ci occupiamo quest'oggi di sicurezza stradale. Lo facciamo con l'avvocato Giulia Procino, una dei legali di Adoc Puglia. Dunque la sicurezza stradale è una tematica davvero ricca di spunti anche alla luce delle continue evoluzioni normative. La sicurezza stradale è effettivamente per l'associazione un tema importante tant'è che quest'anno ha deciso di redigere un calendario, quello del 2016 che ha proprio come oggetto la tematica della sicurezza stradale. Quindi più o meno da tutti i punti di vista. In particolar modo nel calendario abbiamo affrontato quello che è il tema della responsabilità civile e della responsabilità penale, laddove per responsabilità civile si intende la responsabilità in cui incorre un determinato soggetto che provoca un sinistro. Quindi questo soggetto, il responsabile civile, appunto, sarà tenuto al risargimento del danno causato a persone, cose, animali, eccetera, eccetera. Nel momento in cui si verifica un sinistro è opportuno che vengano prese le generalità delle parti affinché si possa poi provvedere attraverso le proprie assicurazioni, se si tratta di indenezzo diretto, al risarcimento del danno. Se è opportuno e necessario fare intervenire sul posto le autorità, quindi i vigili urbani, piuttosto che i carabinieri o la polizia di Stato, e il pronto soccorso se ovviamente ci sono feriti. È importante anche che le parti redigano il cosiddetto CAE, cioè la costatazione amichevole, al fine di ottenere più celermente il risarcimento del danno. Non è indispensabile attualmente prendere l'assicurazione della controparte o comunque del soggetto coinvolto nel sinistro, in quanto attualmente con l'indenezzo diretto ognuno può rivolgersi alla propria assicurazione per ottenere il risarcimento. Dal punto di vista penale, il responsabile invece penale è colui che viola le norme del codice penale, quindi colui che commetta un omicidio, nel senso che se dall'incidente deriva la morte o le lesioni personali di un soggetto, sicuramente si parlerà di responsabilità penale piuttosto che civile. E alla luce proprio delle nuove introduzioni di quelle che sono perlomeno i disegni di legge, visto che la legge non è ancora stata approvata, il disegno di legge del 20 maggio del 2015 dovrebbe essere introdotto anche l'omicidio stradale o le lesioni personali stradali.